D'accordo che bisogna cercare di stare uniti e via dicendo, però bisogna cercare di avere sempre anche qui una capacità di razionalizzare le cose. La regione Liguria ha delegato delle funzioni, ha delegato del personale, quindi queste funzioni sono sue e questo è un punto, un principio, una base che non ci dobbiamo mai dimenticare. Quindi il problema che adesso non abbia i finanziamenti è un problema suo innanzitutto, non è un problema di tutti, è un problema soprattutto suo e alla regione Liguria che deve prenderla. E a me sinceramente che la regione Liguria abbia dei problemi perché deve andare a elezioni a maggio e via dicendo non me ne frega proprio niente, è proprio perché ha questi problemi che dobbiamo insistere su questo fatto. Dobbiamo insistere su questo fatto, perché a me scusate di Pippo e di Rossella, me ne frega proprio un fico secco di niente. Allora se Rossella ha dei problemi di elezione e se ne risolverà in un altro modo, perché il problema è suo, il problema è loro. Il problema è del Presidente della Giunta regionale Burlando che già due anni fa andava a dire a Cani e Porci che le province sono dagli enti inutili e che devono estrapolite. Quindi nei confronti della regione Liguria effettivamente non facciamo così, è colpa di questo, è colpa dell'altro e vi dicevo, la regione Liguria deve assumersi tutte le proprie responsabilità. Quindi in fondo e in questo non siamo solamente noi come dipendenti che lo dobbiamo rimarcare, ma lo deve rimarcare lente, fortemente come ha fatto e come deve continuare a fare.